E' uno contro, chiedo gentilmente al consigliere Sassi di mettersi la giacca come obbligatorio in aula. Consigliere Sassi, invito i commessi ad accompagnare il consigliere Sassi fuori dall'aula per mancata utilizzo della giacca. Chiedo scusa, non è un dibattito questo, però eviterei che i consiglieri intervenissero. Consigliere Sassi, la invito per la seconda volta ad uscire dall'aula. Consigliere Sassi, la invito per la terza volta a uscire dall'aula. Consigliere Sassi, consiglieri per favore, per favore.